Stop al traffico in via Petrarca per cinque giorni. Il tratto resterà infatti chiuso da lunedì 2 a venerdì 6 luglio. Per consentire la nuova asfaltatura e la realizzazione dei quattro attraversamenti pedonali rialzati che saranno realizzati oltre che con il bitume anche con una resina che è necessario che non venga calpestata per almeno 24 ore. Per fare il lavoro fatto a regola d'arte è opportuno che la strada rimanga chiusa e quindi per questi cinque giorni ci sarà qualche disagio. Saranno consentite le operazioni di carico e scarico per i residenti e per le attività commerciali la mattina dalle 7 alle 9. Si tratta dell'ultimo step del progetto di riqualificazione di via Petrarca. Comporta la riflessatura di tutta la strada, un miglioramento del sottofondo per garantire una maggiore stabilità della struttura e la finitura con un gomelato bituminoso modificato che con spessori maggiorati abbia l'usura più lunga nel tempo, con finitura dei passaggi pedonali, con una stampatura similpietra con lo stesso colore per evidenziare la parte pedonale rispetto a quella stradale. Il parcheggio Cadorna resterà aperto e fruibile ovviamente apportando qualche modifica all'uscita. Il giorno 2 sarà aperta con uscita dal lato Cadorna in sinistra, non in destra, in sinistra. E invece nelle altre due giorni, quindi il 3 e il 4, l'uscita sarà da via Portabuia, cioè si entrerà e si uscirà da via Portabuia dalla parte dei residenti l'uscita. Abbiamo tolto alcuni fermi che possono permettere una inversione a 2 e l'uscita dal lato dei residenti. Il giorno 5 si torna sempre in uscita in via Petrarca con svolta sempre in sinistra. Quindi di fatto viene garantito l'utilizzo della Cadorna. Il disservizio, diciamo tra virgolette, il fastidio un pochino di più ci sarà nei giorni 3 e 4, quando l'uscita sarà sempre dentro via Portabuia, in modo tale che comunque il servizio complessivo venga garantito e l'esercizio ci sia.